Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi voglio condividere con voi la ricetta del castagnaccio fatto in casa, non si tratta di nessuna rivisitazione ma della ricetta originale, infatti lo chef in questione non sono io ma il babbo di Jamie, quindi lascio a lui. Hai messo cosa? 500 grammi di farina, di castagne, non l'ho mai fatta da 500, ho sempre usato 300, qui sei già mettendo le mani avanti e metto 338 ml di acqua, sì questa è una cosa mia, la variante mia, che io metto acqua e latte, non metto tutta acqua e non metto tutto latte, ne metto 150 più di 500, quindi 650 in tutto. Ok, preciso. E adesso? Bene, ok. Ok. Poi adesso passiamo allo zucchero e al sale. Allora, un bel cucchiaio di sale. Fino? Sì, ok. Ok. E invece abbondante zucchero. Dov'è lo zucchero? Bondiamo, uno, due, tre, e quattro. Adesso dobbiamo spengerlo. Perché è acceso il fuoco? No, spengere la farina, spengere l'impasto. Tipo mischiare significa? Sì, spengerlo nell'acqua. Probabilmente qua mancherà di acqua, che andiamo a piacere. No, latte soprattutto. Quindi ho aggiunto latte fino ad aggiungere questa consistenza. Esatto, una bella cosa fluida. Una crema? Sì, sì. Allora, 80 grammi d'uvetta. E abbiamo un po' di più. Vabbè, l'uvetta. Eh, l'uvetta. Basta, basta. Ce la teniamo tutta quella. L'uvetta va spenta in acqua tiepida. Noci e pinoli. 100 grammi? Sì. Ci potrebbe 100 grammi di pinoli. Noi ne abbiamo ne abbiamo pochi. Sì, si fa con quel che sia. Ne abbiamo... 40 grammi. Guarda. le noci dobbiamo anche... Spengerle. No, tricarle. Io le spengerei però. Sì. A sto punto. Eh, scusa, non ho capito. Cioè, siamo coerenti, no? Ti prendi in giro. No. Detto in Toscana prendi per il culo. E' qui, Jimmy. Gianmarco, ma non rispondi mai. Timolino. Io non risponderò mai, ma fai vedere come sono. E' via. No, il problema è che ci serve... Ma è uno dei ladroni dei bani, dei bani come... Perché ci serve via Pinoli. E cosa hai comprato? 100 grammi di pinoli. Cioè, hai comprato l'unica cosa che non serviva. Ma ha detto l'uvetta? C'era già. Io sapevo che c'era l'uvetta. Ehm, non ho buttato via il coso, vedo. Eh, vabbè, lascia. Ma cosa mi prendi in questo stavo? Non via. Si spengono anche questi dentro. Sì. Quella acciole. Poi, no, lì non si può sapere. Oh, Bruncaaaaa! Sì, perché non si finisce. Non costa, non costa nulla, ma... L'uvetta. Un... Due... Te ignoranti, io so 100. E tre. Io bello e tutto. Ok. Questo dice, si può anche non metterlo. Io posso fare i video con te. Si può anche non metterlo, perché poi tanto bisogna bagnare la teglia. Io, Matilda, e tu l'ho pensato di sacattiva. Io la metto da tutte le due parti, quindi di olio va bontissimo. Si va in abbondanza. L'olio lo puoi mettere sia... Una mintalata d'olio. Una mintalata d'olio. Una mintalata d'olio. E vai sul sicuro. Nella ricetta, no, non è vero. Sono due cucchiai d'olio. Tre. E poi altri sulla teglia. Ma non metti la carta da forno? No. È talmente oleoso. Cagia. Cagia. Adesso va un dolore. Tre. Non è che non posso. Si, si potrebbe anche mettere la carta da forno, eh. Si sta comodando. No, è brutto. E poi non è... Insomma, si cosa, si. Ammazza gli alberi. Invece con gli olio. Eh no, è pello. Sì. Usare la carta vuol dire ammazzare gli alberi. Quindi questo è un castagnaccio ecologico. Sostenibile. Ecco, sostenibile. Certo. È obbio. E... Primo di... Ua. 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 Ora... Bagnare la teglia o le mani non è proprio... Però... Vabbè, cosa d'ing. Grazie. Questo, ecco. Questo l'ho fatto buono. Anche più basso. Posso inclinare? Inclina pure quanto ti pare. Ma quanto sottile deve essere? Più sottile è e più buono è. Ah, ok. A me... Molicione grosso non mi piace. Mettendo l'ultimo perché... Rimangano sopra e prendano... Il croccantino. Ma laggiù, laggiù papu, qui. Sì. Non c'è più. E adesso? Allora, aspetta. Ne facciamo uno col cacao e uno senza. Questo senza. Perché evidentemente Niccolò ho limiti. Poi... Sì. Teglia numero uno. Teglia numero due. Con troppo. Uno, due, due. Questa è perfetta. Fai pure... Occhio all'olio. Sì, sì. Ok. Con una forchetta... Prova un po' a bucarlo. Sì. Senti com'è. Bello denso. Sì, 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 sì. Basta. Ok. Allora lasciamo affrettare. Sì. Qui spegniamo tutto. Questo è ciò che è avanzato dopo un giorno. Quindi direi decisamente apprezzato. Io non ho ancora avuto modo di assaggiarlo. Quindi ora... Taste test. Del... Castagnaccio toscanaccio. Cheers. È castagnoso. Questo è castagnoso. È buonissimo. È buonissimo. È buonissimo. È buonissimo. È buonissimo. Non potrei mai trovare una cosa più castagnosa che questa, lo sai? L'ha prima assaggiato? No. Ammetto il castagnaccio. ma perché sembra essere un po' strano mi fai un bravo Babbo Giacomo cosa? approvato sarà fierissimo di questo video lo guarderà ciao dove è andata la spalla? è partita comunque a casa ce l'ho anche la farina di castagna riproverò a farlo